oggi siamo tornati alle grotte finalmente dopo due secoli ormai i video alle grotte iniziano sempre così però è vero sono tristi le grotte sono tutte bagnate oggi vediamo di tornare come i vecchi tempi ma poi loro non sanno una cosa non lo sanno abbiamo messo le nuove scarpette alla bici tu adesso prendi quella bici e andiamo subito a dare un po di gas c'è la luce divina guarda la quarta la luce divina sì ma tutto sto casino che si ricotta di dai riesce a filmarmi poi io io vado lì mi metto lì ti faccio video io vai 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 no nelle palle di farlo con le gomme nuove sono già sporche un aereo ma sai una cosa no 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 perché no cade ma no tu non ti fidi delle mie abilità tabelloni risultati finali terza b vai guardiamo i voti vai fammi vedere licenziato licenziato aspetta sei licenziato 8 8 però è tosto sex spesso posso farlo vedere sex sex è davvero tosto l'ora di giustiziare perché nel mondo ci vuole giustizia animalici del c***o chiudete il video spero la possate vedere voleva appungermi e l'ho fermata in tempo prossima volta non mi pungi è ora di sistemare una volta per tutto il suo salto che ci ha sempre accompagnato dobbiamo darle una seconda vita vado quanto è brutto lavorare così senza voi è la palla che tiene su te dai abbiamo già sistemato oh ancora più schifo di prima ora direi che è un'altra roba ok che lo lascio mandiamo suo salto proviamo a fare questo esperimento vediamo se si vede bene anche dal telefono e speriamo non mi cada non l'ho più ripreso non l'ho più ripreso no ci arrestano ci arrestano oggi davvero tosta dobbiamo portare il bancale alle grotte però non gli droppi il groppo perché alle grotte non si controlese da solo ma se facessimo una ruota tosto si che fatica fermo fermo non ti muovere nulla di grave perché è un'operazione pericolosa guardala qua mai visto sto posto comunque funziona però devo dire che funziona ma che grandi che siamo oh meno male che abbiamo lato insieme io lascio lì abbio 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 cioè guarda si è incastrato un tronco nel cambio mi sa che oggi non è giornata ci hanno fatto tutte le pale ragazzi non è uno scherzo purtroppo non è uno scherzo non è vero allora non è vero non è troppo le pale oh ti prego no 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 non c'è la batteria non c'è la batteria sennò poi mi interi zonzare adesso lei le trapano tutte qua abbiamo già studiato come fare il drop penso che verrà una bella figata cioè guarda perfetto perfetto fra è troppo piatto è piatto ti ho detto che è piatto ti ho detto che è piatto mi ascolta quando parlo ti ho detto che è piatto troppo inclinato è perfetto dai bello non è né difficile né facile esatto fabio il falegname fabio il falegname sottopagato schiavizzato pulitato mi volete per lavorare no un euro un euro non lo dire neanche negli abitatori che non hanno la chiusura che si gira così così in teoria ci dovrebbe essere sta roba no questo si tira giù il monte cappuccino hai sentito qualcosa? si ho sentito si ho sentito si cazzo dovremmo togliere la cosa però adesso così uno tira di qua e l'altro tira giù dall'altra parte vedi 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 oh cazzo è difficile thank you chi scava adesso? vieni fuori ciccio oh grande ho fatto il landing qua tra una cosa e l'altra abbiamo fatto tanti lavori primo test tenuta del salto come lo dicevi portavo il caricatore dell'iphone e te lo caricavo dove lo tocco? hai presenti i video che prendono un pomodoro ci metto il caricatore dentro e si carica si carica grippato scarica finto la gas ah spettacolo guarda che bello ora è quello tutto dobbiamo fare le riprese belle con la telecamera tra hai ragione hai ragione adesso adesso il gabbro se lo prova il gabbro se lo prova e lo prova il Fabio me l'ha detto che lo provava il Fabio e non lo vuole ammettere ma me l'ha detto ah mi chiamo Fabio intervista aspetta aspetta intervista oggi abbiamo costruito salto del rampage non si vede una eccolo il falegname si chiama così perché fa legname il salto è venuto bene una meraviglia dalla telecronaca dicono che sia una roba fantastica non lo faccio ho paura ho paura ho paura ho paura ho paura ho fatto benissimo complimenti lo faccio da seduto mamma no no fai limpieri senza mani ho paura ho paura ho paura Grazie a tutti.